8, 9, stai contando le tue avventure amorose eh, magari Flavia, conto le nuove offerte di Mobilia Megastore ma perché non andiamo a vederle? ma sono tantissime e l'esposizione è grande abbiamo solo un minuto, come si fa? idea anche questo mese Mobilia Megastore ti propone divano in pelle con penisola e panolidreria a soli 1690 euro cucina con elettrodomestici in finitura avolio con top in faggio a soli 1190 euro camera da letto con armadio e comodini, comò e specchiera a soli 1790 euro divano con penisola con letto e vano contenitore a soli 670 euro e se acquisti adesso finanziamenti in 48 mesi a tasso zero oppure in 60 mesi con prima rata d'ottobre e ci sono anche i regali! tv LCD widescreen divano due posti pc portatile e per gli sposi un pacco corredo fai presto che dobbiamo finire lo spot! sto arrivando! lasciatevi andare alla convenienza di Mobilia Megastore tutti i giorni a Caserta Sud la vostra felicità ci sta a cuore